E' l'ultimo dei protagonisti, allora vediamo i partiti. Più staccati Lampo d'Arcadia e Melchise. E' in leggero vantaggio Tesaurus lungo la corda davanti a Clockwinder, Sardomen, Art of Centauri, Melchise e Lampo d'Arcadia. Conduce Tesaurus attaccato a centropista da Clockwinder. Più staccati Sardomen e Melchise. Allunga Tesaurus davanti a Clockwinder, Melchise e Sardomen. Grazie. 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 Grazie.